Eccoci qua anche questa sera, benvenuti, si chiama Casa Caffè, ma per chi ha seguito un po' i post durante la settimana di presentazione per questa serata, ha visto che c'è un appuntamento divino, allora dice vuoi vedere che Casorati si mette a parlare di religione? No, no, state tranquilli, potrebbe essere una cosa molto interessante, potrebbe essere bellissimo, c'è bisogno di pace nello spirito e nell'anima, ma lo si può raggiungere anche in un'altra maniera. I veneti dicono bevendo un'ombra, invece le persone professioniste dicono degustando un calice divino, ecco da cui l'appuntamento divino, ecco l'abbiamo chiamato così, un po' per gioco, un po' perché è vero e cominciate già a vedere qualcosa di inquadrato. Allora quando si parla di vino bisogna vedere da che punto di vista, perché il più semplice sarebbe quello del berlo, quando lo bevi hai già capito tutto, perché senti qualcosa in bocca, ma qualcosa di più, cioè sapere un po' una piccola storia, un perché viene scelto un vino, chi è che pensa a queste cose, perché uno ama sedersi, soprattutto se sei in ristorante, e dico mangio questo, cosa le porto se uno sceglie da solo, se no c'è la figura del sommelier che ti aiuta nella scelta. Quando vai in un negozio automaticamente vedi tante etichette, non le hai assaggiate tutte, quindi ti viene voglia di sapere, allora qualcuno ti deve informare, deve dirti qualcosa e ci deve essere qualcuno che si è procurato un assortimento. Questi sono i due punti di vista che affrontiamo questa sera, perché si comincia sempre così, prima si conoscono le cose e poi si comincia a parlarne, anche fra di noi, fra diciamo i degustatori finali, però bisogna imparare prima dei professionisti. Allora intanto grazie ai ragazzi che sono qui con noi, voi inquadrate allora Eleonora e Nicolò, non c'è da sbagliare su chi è Eleonora, su chi è Nicolò, quindi siamo estremamente fortunati, entrambi sommelier, però Eleonora cura un po' più la distribuzione, invece specificatamente il lavoro di sommelier di Nicolò è quello proprio intanto di studiare il vino eccetera, ma anche la presentazione, l'utilizzo nella ristorazione, è il punto forse più necessario per l'utente finale, perché se qualcuno le scelte bene va bene, però che qualcuno poi ti dia il consiglio è fondamentale. Però torniamo indietro, cominciamo allora dalla distribuzione, perché? Perché come dicevo Eleonora, io so che un po' tutte le ditte hanno un sistema di promuoversi eccetera eccetera, però soprattutto quelle diciamo un po' più di nicchia, un po' più sconosciute, anche perché insomma ci sono tante belle etichette che tanta gente, anche gli esperti non conoscono, allora ci sono delle ditte che si occupano di fare cosa? Raccoglierne un po', suddividerle nei valori bianchi e rossi, bollicine eccetera eccetera, ecco che tipo di lavoro è questo? Perché non deve essere facile, no? L'importanza del lavoro del distributore è in primis la selezione, quindi lavorare la ricerca, andare a conoscere i produttori, conoscere i territori e per poter poi ovviamente riproporre ai loro clienti dei prodotti adeguati, coerenti, quindi l'attività del distributore è molto importante sia perché viene fatta una selezione a monte che è una sorta anche di garanzia poi nei confronti, per quello che riguarda invece il produttore è un aiuto per una visibilità all'interno diciamo di cataloghi magari che possono essere più o meno grandi ovviamente, ma soprattutto anche una parte può essere di aiuto perché gli viene risparmiata diciamo tutta la parte della logistica, della gestione di tutti quelli che sono i clienti finali che possono essere diciamo il settore orecca, quindi parliamo hotellerie, ristorazione e tutti quelli che sono diciamo i bar e quindi attraverso la distribuzione loro si risparmiano soprattutto diciamo di dover gestire una logistica importante con tutti quelli che sono i clienti. Ecco, questo però comporta, ecco una piccola nota, io probabilmente non lo vedo io perché sono sul monitor dove non è scritto, però non vedo il titolo, vabbè in ogni caso appuntamento di vino, se lo vedete voi in televisione meglio, grazie anzi a proposito, devo dire subito grazie perché vedo che siamo anche in diretta Facebook, quindi grazie a chi sta seguendo non solo nei vari canali del digitale terrestre, tutto il nord Italia si va anche a scendere e poi ovviamente il nostro streaming piuttosto potente che gira in tutto il mondo, ma adesso anche su Facebook, quindi grazie anche ai nostri amici di Facebook che sono quelli che solito possono anche loro intervenire. Se volete intervenire però 349 06 34 349 e sms o whatsapp perché non posso certo andare in diretta col telefono che ho qui pronto. Vi dico subito per questioni di privacy, voi mandate il messaggio, dopo un secondo che è finita la trasmissione sono tutti spariti, quindi non viene trattenuto niente, fate tranquilli se volete firmare col nome eccetera, di solito leggo i nomi, non i cognomi perché è meglio così e quindi potremo almeno ringraziarvi citandovi, ecco questa era la doverosa premessa. e qui aggiungerei la faccenda allora che la difficoltà e forse la facilità per l'utente che ha un locale, un pubblico esercizio a qualsiasi livello, sia proprio che qualcuno ha fatto per lui la scelta. Sì. Ecco, però dovendoci andare a parlare con questa persona, che rapporto c'è di vera fiducia? Cioè uno dice, vabbè sì sì, mi pido, però vogliono andare più a fondo, c'è bisogno anche di, insomma di, siccome è vasta la scelta, bisogna cercare di capire quale potrebbe essere la cosa che vuol vendere quel cliente, perché se una persona come te va e propone una linea immensa, può darsi che perde tanto tempo e lo fa perdere anche lui. Se uno dice, guarda, io qui ho i miei clienti che vogliono più o meno, quasi solo, è così che si può identificare meglio e anche lavorare meglio? Credo che il lavoro più importante che devono fare gli operatori, come lo sono io, che lavorano per le distribuzioni, sia nel momento in cui si va a parlare con un cliente, la prima cosa fondamentale è comprendere le sue esigenze, quindi qual è il suo cliente target, che cosa consumano i suoi clienti, se hanno una preferenza per gli spumanti piuttosto che i vini bianchi, qual è il loro tipo di cucina e in generale quali sono i consumi e dove sono più orientati. portare semplicemente, come si poteva fare una volta, un catalogo e un cliente adesso non ha senso. Non ha senso perché il cliente non ha, neanche spesso con il lavoro che fa, tempo e modo di star lì a sfogliare centinaia di pagine e perdersi in centinaia e centinaia di etichette, pertanto il nostro lavoro è quello di capire dove poter orientare, dare dei consigli, essere vicini per essere anche dei consulenti, quindi non solamente, non è più la figura di vendola cosa perché ti serve, perché ovviamente nel mondo del vino le aziende sono migliaia e di conseguenza quando i produttori sono migliaia, se un cliente sceglie te è perché ha capito che tu sei lì per effettivamente aiutarlo e penso che sia il nostro lavoro aiutarlo nella formazione, nel fargli conoscere i prodotti, le aziende, perché alla fine è lui che li vende, non è lui l'utente finale, è lui poi l'ambasciatore vero dell'azienda, del vino e di tutto il resto. Ecco io vorrei far notare al mio regista che però nello schermo della diretta Facebook vedo nero, io vado a nero qui, non so se siamo, immagino di sì, siamo in chiaro sul digitale terrestre però qui vedo nella diretta lo schermo nero, vedo le parole però di quello che viene detto e quindi evidentemente l'audio c'è, il video un po' meno. Eccolo qua, oh finalmente adesso c'è, perfetto, grazie. Ecco allora andiamo a sentire però Nicolò, Nicolò ha un altro vantaggio, lui sì ha un vantaggio superiore perché non deve parlare con una persona che ne deve accontentare tante, deve essere lui che ne accontenta una o un gruppo, quindi è un rapporto più familiare. Sì, assolutamente sì. Però dicendola qua così, come siamo con la possibilità che anche lì si sappiano spiegare? Perché forse una persona che ha tanti clienti ha già un'idea di quali sono le richieste. E il gusto personale della persona può essere, è già più difficile no? Sì. Come si fa a cercare di capirlo? Perché penso che una delle caratteristiche più importanti del ruolo di sommelier, insomma quello che svolgo io poi in ristorante sia quello di essere un po' psicologo con il cliente, quindi a primo acchito riuscire già dalle prime parole che il cliente viene a pronunciare nella scelta del vino oppure riguardo alla carta vini, di capire i target magari di bottiglie che vuole bere, magari la zona di produzione di questo vino, se vuole fare un abbinamento tecnico sulla pietanza o se vuole invece abbinare un vino perché gli piace e quindi andiamo fuori no? Andiamo all'abbinamento emozionale che è una cosa diversa. Noi dobbiamo come ruolo di sommelier cercare di arrivare per primi no? Senza magari mettere imbarazzo al cliente che a volte con una carta importante come può essere una carta di un ristorante anche stellato, si può essere un po' in imbarazzo avendo magari quelle migliaio di etichette no? È difficile andare alla ricerca e alla scelta e la nostra figura è quella di riuscire a facilitare la scelta e fare in modo che sia contento ecco della scelta fatta. Ecco, la parte psicologica sicuramente è la prima. Assolutamente. Però ecco, quello che mi hai fatto capire subito, che è molto importante però, è capire se questa persona, il cliente, genericamente ha un gusto suo specifico che non c'entra niente col piatto che vuole mangiare e quindi non si abbinerebbe nemmeno però se a lui piace quello, gli si deve dare quello. Assolutamente. Ecco, viene fuori così diretto il cliente di solito oppure bisogna arribarci? Perché io le proporrei. Ma sa che a me... Sì, di solito magari ci si introduce con qualche domanda e quindi sono fondamentali no? A far parlare all'inizio della serata o del pranzo insomma il cliente in modo tale da capire un po' dove si deve andare a parare nella scelta e insomma penso sia importantissima questa fase, la fase iniziale. Per quanto riguarda l'abbinamento emozionale, molti, faccio un esempio, con dei piatti di pesce amano bere dei rossi importanti che di solito magari non è così usuale vedere, però c'è anche da sdoganare anche questo fatto che magari pesce, vino bianco o bollicina non è sempre detto che sia l'unico modo di abbinare. E quindi dobbiamo cercare di andare ad accompagnare la richiesta del cliente con delle nostre magari contro proposte in modo tale da aggiungere all'equilibrio e quindi alla scelta effettiva del vino insomma. Ecco, in modo da avvicinarlo un po', a lui piace una cosa così, io le vorrei proporre perché c'è gente che accetta di solito no? Assolutamente, sì. Anche perché di solito molto spesso ci si affida al sommelier. Io penso sia fondamentale quando si va in un ristorante che ha un sommelier e non tutti i ristoranti hanno il sommelier, ok, di affidarsi un po' perché è lui che conosce la cucina del ristorante, è lui che conosce la sua carta di vino e quindi bisogna un po' dargli atto che è lui un po' quello che ti può aiutare a passare la serata nel migliore dei modi nella scelta del vino e quindi ecco che secondo me è importante che ci sia una bella comunicazione tra cliente e sommelier nella scelta del vino. Ecco, quella proprio così, come si dice fuori dei denti, senza bisogno di nascondersi le cose dicendosene chiare con la classica educazione che sono tra distingue. Questo ne parliamo dopo perché cominciamo da chi va invece a fornirlo, come capita l'eonora che tu ti muovi per una ditta, giusto? Sì, io lavoro per l'azienda Balanna. Quante etichette ha più o meno da proporre? Parliamo a decinaia, no? A centinaia forse? Sì, molto più di cento. Allora, l'azienda per cui lavoro ha un catalogo che copre tutta l'Italia, da nord a sud, in tutte le regioni, nelle varie specifiche. Poi si muove anche ovviamente all'estero, quindi con principalmente la Francia. I cugini? Sì, perché l'azienda Balanza ha una forte specializzazione per il mondo francese, diciamo, che è una cosa che comunica anche ai suoi clienti, quindi diciamo per cui è riconosciuta anche a livello nazionale per la sua importazione di vini francesi, borgognoni piuttosto che champagne o di Bordeaux. Ecco, anche qui allora bisogna dire, vabbè, partiamo da un'ipotesi, cosa vogliamo tenere qui? I vini? Di quale regioni? Per esempio, sarà questa una domanda da fare? O se per esempio, ma qui in Veneto per esempio, il cliente generico è uno che ci tiene ad avere i prodotti del luogo oppure può sembrare più interessante uno che all'interno di un'enoteca o comunque bar avanzato a livello di utilizzo e di mescita del vino e per vedere che c'ha tante altre cose e magari tralascia, perché nessuno è profeta in patria e può succedere anche questo. Come potrebbe essere? Perché anche lì è un approccio, credo, fondamentale. Allora, lì non è facile perché se si dovesse ragionare spesso sull'utente finale, probabilmente molte carte vini, molti ristoranti e molti... Allora, l'enoteca è magari di più perché loro hanno il fisicamente che entra lì, spesso va direttamente allo scaffale, si sceglie la cosa, se non diciamo al suo consulente e quindi cerca le marche magari più note e poi il petrolio e l'enoteca è quello che magari fa da consulente. Nella nostra zona dipende soprattutto da dove ci si trova, perché l'utente di Padova non è quello di Verona, non è quello di Venezia, dipende molto da dove si trovi. Magari quello di centro Padova non è quello di Selvazzano che per quanto sia vicino alla città può esserci un modo diverso di affrontare. Quello senza ombra di dubbio, per quello che riguarda la ristorazione si cambia ancora di più, perché a seconda delle pietanze proposte la cucina di pesce avrà la percentuale più alta sicuramente di quella che può essere uno spumante, un vino bianco, quindi se io andassi a proporre un Barolo a un ristorante che viene solo pesce non sarei propriamente in linea con quella che è la proposta effettiva e l'esigenza del ristorante. Specie se non c'è il sommelier al ristorante, perché allora i quali vanno proprio sono quelli del rosso, va solo con la carne. Per carità poi se lavori a Venezia e sei in un ristorante di pesce ma ti arriva il cliente americano, la bottiglia di Barolo la verrà di sicuro, cercherà anche i grandi vini importanti toscani e se li mangerà col crudo di pesce che probabilmente non c'entra nulla, però ovviamente tutto si può, perché la cosa fondamentale è il gusto personale, il cliente finale quando va a consumare deve fare un'esperienza. Uno fa la sua analisi organolettica personalissima perché se la assaggia lui è quello che sente in bocca, buono sì, buono no, una delle due. Si ritorna proprio al discorso emozionale di prima, quindi bisogna un po' a volte quando si va a consigliare il vino proprio capire se uno vuole bere per l'abbinamento tecnico se è emozionale. Devo dire che spesso anche quelli emozionali sono vincenti perché quando vedi in carta una grande bottiglia che magari non si abbina con quello che stai mangiando, però magari fai fatica a trovarla, ecco, che secondo me è giusto che la si prenda. Ecco, e qui, vabbè, intanto avviso eventualmente alla regia che siamo quasi pronti per fare una mini chiacchierata per fare le cose da Monelli, qui si fa le cose serie fra le persone che degustano, invece c'è una manifestazione domani che parla di Monelli, ma si chiama Monellandia, ne parleremo fra un attimo quando avremo Michela Schiavo in linea. Due minuti per, come si dice, per stemperare e tenere a temperatura il vino, che là bisogna stare attenti. Però, subito così, lo chiedo a te, però poi lo chiedo anche a lei perché i clienti sono ancora peggio. Il saputello. Qui apriamo una parentesi ampia e a volte anche dolorosa, nel senso che molto spesso, anzi, magari adesso un po' meno, però una volta un po' di più, devo dire, c'era una presenza di clienti molto saccenti e quindi bisogna sempre stare molto attenti per quel che riguarda quel tipo di cliente. e quindi dobbiamo dare atto magari a queste persone di esprimere la loro opinione, assecondarli, magari riuscire a indirizzarli quando possibile nella scelta. Quando ti dicono però che loro lo sanno e non hanno bisogno di nessun consiglio, io alzo le mani, insomma, i clienti sono loro e giustamente hanno ragione e quindi si va a fare quello che dicono loro. È chiaro che è tutto nel creare l'empatia giusta con il cliente per riuscire a domesticare un po' tra virgolette questo cliente difficile, no? Perché il saccente non è facile. Infatti. Allora può essere che accontentando, perché tanto bisogna saper ascoltare, ecco, questo credo un'altra cosa da ricordarsi, in tutti i campi, in tutte le ragioni, in tutti i modi, quando si parla con una persona, l'importanza è saper ascoltare. Perché i saputelli sono quelli che siccome sanno tutto vogliono parlare loro di solito e ti vogliono anche spiegare, tu sei sommelier e questo ti spiega il vino e ti dice va bene, grazie. È così. Sì, sì, assolutamente. Se lui sa, sa, c'è qualcosa da dire. E a rovescio bisogna saper ascoltare, perché se sai ascoltare e alla fin fine questo magari sa davvero qualcosa, però allora se lo accontenti in quello che ti chiede, e gli dici adesso posso permettermi di farle assaggiare una cosa? Sì. Come consiglio. Lei ha scelta bene. Eccoci qua. Oh, vedi. Allora, intanto vedo la scritta Monellandia in tv, però sentirò anche la voce di Michela. Pronto? Buonasera, buonasera, eccomi qua Claudio. Come va Michela, tutto bene? Tutto benissimo, grazie. Anche perché si chiama mica male o un lusso, no? Siamo obbligati a stare mica male, anche le maternative. Se si chiama così, deve essere per forza. Se lo abbiamo nel DNA, esatto. Esattamente. Allora, come viene in mente questa idea ancora una volta di fare qualcosa, ma è parlare di Monelli, perché noi stasera qui stiamo parlando di vino, di persone di solito che se ne intendono, oppure gente che vuole imparare a bere o vuole imparare ad abbinare e quindi c'è anche lì una scuola. Con i Monelli, cosa si fa per i Monelli invece? Si tengono a bada come? Con qualche effetto speciale? Ma in realtà noi facciamo un evento che odora di Monellandia, nel senso che siamo noi i primi Monelli, perché mica male, in senso positivo, sta cercando di passare il messaggio che è arrivata l'ora di smetterla, di sottostare a questo terrore Covid. Sicuramente le normative Covid vanno ottemperate, sicuramente le distanze, la mascherina, tutto ciò che è prevenzione, nessuno di noi è negazionista. Io per prima ho avuto il Covid, quindi all'ennesima potenza voglio osservare le regole perché veramente a me ha cambiato la vita in negativo. però è necessario bypassare la paura, riuscire a costruire un senso di comunità che è andato perduto e qui ci colleghiamo benissimo all'argomento di questa sera del vino perché di per sé la convivialità dei Veneti è nota in tutto il mondo, il sedersi a tavola insieme, il bicchiere di vino, l'aperitivo, noi Veneti siamo noti in tutto il mondo per i nostri aperitivi e quindi appunto tutti questi aspetti purtroppo col Covid sono andati persi. Noi vogliamo semplicemente passare il messaggio con questo evento che puzzerà per qualcuno da Monellandia perché pare quasi che noi si voglia andare contro le normative, ricostituire la socievolezza, lo stare insieme, il volersi bene, l'aiutarsi perché poi l'associazione sarà integralmente gestita da attività di terzo settore. Di per sé il logo Monellandia è un logo che è stato inventato dal comune di Mestrino il cui il sindaco Marco Agostini ci ospiterà in questo evento ed era già stato utilizzato ora non ricordo se nel 2015 o nel 2016. Abbiamo voluto rilanciarlo perché è un logo al quale lui con molti dei suoi progetti è estremamente legato e visto il coraggio, la forza, la partecipazione nell'organizzazione e quant'altro il comune di Mestrino abbia messo abbiamo voluto riusare questo logo. Bene, praticamente ci si ritrova che è una giornata di domani, giusto? Esatto, domani 29 di maggio 2021 ci troveremo al parco in via Trieste a Mestrino che non è il parco Papi, molti si confondono, siamo nella zona dietro alla protezione civile per intenderci, vicino alla caserma dei carabinieri. Ci troveremo, siamo quasi 20 associazioni tra una cosa e l'altra e come al solito, come ha sempre fatto storicamente mica male, farà questo miscuglio di attività tra il terzo settore, l'arte, gli anziani, ci saranno libri in inglese, ci saranno laboratori ludico-scientifici, ci sarà la musica, ci saranno proprio svariate attività per attirare le persone a stare insieme e dimostrare che pur con la mascherina, con il distanziamento sociale è possibile portare avanti la cultura. Ricordiamoci, noi abbiamo già fatto poco tempo fa una serata insieme Claudio, nella quale abbiamo detto di quanto l'arte sia stata distrattata e accantonata in questa epoca Covid. Ecco, quindi per noi avere due grandi artisti e portare due concerti di gruppi cover dal vivo, soprattutto uno adolescenziale, è estremamente importante. Poi la ragione focale con la quale abbiamo deciso di creare l'evento è che purtroppo il Covid ha causato svariati problemi in tutte le fasce di età, non dimentichiamo la quantità di persone che sono disoccupate e quant'altro, però la fascia adolescenziale è quella che un po' di più probabilmente sta risentendo di questa pandemia. Quindi ci troviamo appunto in questo parco, bellissimo tra l'altro perché è di 5 mila metri quadrati, è molto ben contestualizzato, che sente fortemente di atti di vandalismo per mano di giovani e quindi quello che vogliamo comunicare noi è che non puntiamo un dito contro i giovani, siamo qui per ascoltarli, capirli, trovare con loro un metodo per reagire a questa condizione, ci saranno delle associazioni specializzate in tutto ciò che è tutela dell'adolescenza e disturbi che possono subentrare post pandemia nella fascia adolescenziale per canalizzare e gestire quello che quest'epoca sta portando e che sta oggettivamente mettendo in croce Mestrino, ecco come tutti i comuni in realtà, però Mestrino è il primo che ha il coraggio di dire non ti punto un dito contro, non ti mando fuori le forze dell'ordine ma cerco di trovare con te una chiave di dialogo, ecco. Ecco io credo che effettivamente il problema Covid abbia esasperato le persone, quindi adesso c'è mancanza di serenità, c'è sicuramente un terrore latente perché con tutte le cose che ti obbligano a non fare e che soprattutto tutte le notizie negative che ti vengono date e mai quelle positive, credo che abbia creato quel brutto sistema dove la gente ormai salta con niente, si arrabbia con niente e purtroppo magari se non c'è serenità e allora c'è voglia di fare qualcosa, spunta invece che la voglia di cantare insieme un vandalismo perché ti sembra di aver dato un segnale più forte. Ecco questa credo che sia la mission che abbiamo sempre avuto noi perché io quando vengo qui il venerdì dico siamo in concorrenza con il disgraziario, cioè il Tg, quello delle reti nazionali, siamo in concorrenza con il disgraziario perché le disgrazie dicono e ci restano sulla pelle a chi le ascolta, noi invece vogliamo parlare di cose un po' amene, un po' eleganti, un po' serene, quelle che poi ci danno un sabato e domenica a cui pensare, noi lo faremo col vino ma anche magari partecipando domani, per fare cosa? Riprendere quella serenità che ci è stata tolta e un po' facciamo fatica a riprendere da soli. Certo, ma anche perché fondamentalmente questa idea che io riuscirò a mettere in atto domani dopo tre mesi che ho girato per tutti i sindaci i vari enti di qualunque ordine e grado, come piace dire in qualunque GPCM, io fondamentalmente con il micamale porto avanti l'idea che noi non sappiamo quanto questa condizione si protrarrà e oggettivamente non possiamo smettere di essere gli esseri sciolari che abbiamo possibilità di essere, gli esseri gioiosi che condividono, che socievolizzano. Pensiamo a quante volte il terzo settore ha fatto inclusione, ha fatto attività a favore della terza età, della diversabilità, delle persone di diverse etnie. Tutto ciò è da due anni che viene accantonato. La prevenzione sanitaria, la prevenzione di attività come il bullismo, la violenza, tutte queste cose sono sparite con il Covid. Il mondo non è il Covid, il mondo siamo noi, la nostra voglia di esserci e di affermarci e non possiamo più procrastinare questa necessità di vivere. Quindi il nostro hashtag di domani è ripartiamo insieme col sorriso. Io mi inchino a te Claudio che già come tante volte hai dato voce a noi che vogliamo essere un pochino al di fuori del coro e vogliamo distinguerci. Domani sicuramente ci distingueremo perché riuscire a mettere in piedi in dieci giorni un evento di questa portata è per noi veramente fonte di estrema gioia. Sarà estremamente schematizzato, temporeremo a qualunque normativa necessaria ma domani ci si divertirà a bomba. Non ci sarà una persona che si annoierà, ne sono certa. Benissimo. Michela, grazie intanto della spiegazione. Noi invitiamo ovviamente a partecipare. Ripeti, dove siete? Monellandia 2021. Siamo al parco in via Trieste a Mestrino dietro la protezione civile. Ecco, quello che secondo me uno deve andare lì è per fare, intanto per scaricare un po' di tristezza e fare il carico di serenità. Questo secondo me. Esatto, a ciò a cui puntiamo. Grazie infinite. Grazie Michela, buona serata e in bocca al lupo per domani. Buona serata a tutti voi. Un saluto. Grazie. Grazie, arrivederci. Ecco fatto. È vero perché anche i clienti credono che non vedano ora, adesso c'è sicuramente che ritornano la voglia di andare al ristorante, di poter stare un po' insieme, distanziati va bene, ma insomma di buttare via tutti quei sentimenti negativi che purtroppo ci sono saltati addosso. Allora, anche lì il cliente ha la voglia un po' di ritornare ai vecchi pasti perché dal fatto non potessi neanche andare al ristorante. Tantissima, tantissima voglia, devo dire la verità. Adesso stiamo riaprendo le prenotazioni dal primo di giugno perché non avendo il plateatico abbiamo dovuto ritardare, no? Quindi con le aperture al chiuso e per fortuna la risposta è veramente importante, bella, come tra l'altro c'è stata l'anno scorso perché ricordiamoci che sono due periodi molto simili, no? Le chiusure primaverili e l'apertura ridosso di fine maggio, inizio giugno. Quindi grande affluenza probabilmente nelle prime settimane, ma secondo me per i prossimi mesi perché c'è tantissima voglia da parte di tutti i nostri clienti, ma in generale penso a tutti gli avventori, me per primo insomma, no? Di andare a mangiare fuori, a bere in compagnia sempre con le dovute, per carità, cautele, però insomma, vivere un po' perché siamo tutti stanchi. Ecco, oltre al saputello, che però il solito saputello è anche uno magari disposto a spendere, invece c'è la persona che quando sente parlare insomma gli teme forse, perché è naturale, non siamo tutti ricchi, io faccio parte dei poveri giustamente, e quindi uno ha il timore che se gli fai una proposta, quindi chiedono subito di stare su, ti dicono guardi, però mi diano a... come si esprimono di solito? Dipende, dipende, insomma sì, senza dubbio si riesce a capire da subito secondo me la situazione, quindi c'è il cliente che magari è un po' più timido nel dirle queste cose, però poi ne esce subito l'idea di non andare a esagerare con il prezzo, però la bravura del sommelier secondo me è quella di fare una proposta diversificata e quindi non ovviamente proporre solo cose importanti, ma partendo magari da cose più semplici, passando una proposta intermedia per finire magari con invece una molto più importante, poi sta alle varie facce anche no, che vediamo dal cliente capire dove si deve spingere un po' di più. Ecco, perché proprio penso che un po' può essere la timidezza, un po' anche il vergognino, perché uno, insomma, soprattutto se ci sono altre persone nel tavolo che sentono, ma è colui che dovrebbe scegliere, starla proprio a dirla, no sì, ma non ce n'è, allora è più facile forse, se lui dice, senta, io posso fare due o tre proposte e veda lei, vogliamo andare su un che per inciso costa X, una cosa invece da che… Di solito non vado a specificare il prezzo, perché… Ma se si capisce che uno si può starci dentro… Si capisce, si capisce, è un po' brutto andare a parlare di prezzo in determinati posti. Magari si deve specificare, però diciamo che non è di fascia alta… È un po' complice, magari più immediata, più… Allora, usando dei termini magari un po' più eleganti, si riesce a mettere anche a proprio agio il cliente. Ecco, credo che sia lì, no? Sì. La parte migliore, proprio perché se uno è da solo, vabbè parli, si ascolta, vabbè, portami quello che vuoi, ho voglia di bere, ho voglia di spendere. Sì, esatto. Tu dici grazie, è gentilissimo. Che pensi di me? Faccio io, faccio io, sì sì, ma infatti succede anche quello, no? Io lavoro in ristorante, nello stesso ristorante ormai da più di sette anni. Beh, puoi dire qual è? Sì, sì, lavoro all'Antico Osteria da Cera, quindi siamo a Campania Lupia, in provincia di Venezia. Da più di sette anni e nel corso dei sette anni sono riuscito magari un po' alla volta ad avere una clientela che si fida anche delle scelte che faccio per loro e bisogna sempre farle corrette però, perché insomma basta anche poco a volte per perdere quella fiducia che con anni di scelte si è conquistata. Ecco, a parte che tra le varie regioni e le varie città, se c'è Eugenia che ascolta Davidano, la salutiamo, c'è Eugenia perché non si sa mai, ho detto che forse riusciva a sintonizzarsi. Credo che la stessa cosa però valga anche per chi deve acquistare, perché lì è vero che ci sono gli sconti sulle quantità, questo e quello, anche lì conviene, allora lì si può, anzi ci tengono credo a parlare di prezzo quasi subito, quelli che vengono ad acquistare come azienda, o è meglio anche lì buttarla prima sul chiamare fascia alta, fascia media, fascia alta in modo che insomma si possano girarla senza bisogno di andare subito a dire niente, non voglio spettare così. Ma allora adesso come adesso, si parla sempre comunque di fasce, non si parla di vini d'ingresso, che quindi si sa che si aggirano entro una certa fascia prezzo, la fascia media e la fascia alta, non si parla tendenzialmente di prezzo. Poi sta sicuramente a noi non andare a proporre un vino molto molto importante, non contestualizzato al posto, quindi credo che sia fondamentale anche prima di andare in un posto che non si conosce, essere preparati su dove si va, quindi informarsi, conoscerlo, capire che cosa fa. Proprio fare tipo un'esplorazione, cioè andare anche senza farsi riconoscere, io sono qui per vendere qualcosa, ma vedere la gente come gira, che immagino possa essere già un piccolo segnale per sapere cosa proporre, no? Credo che sia fondamentale, è anche il bello del nostro lavoro perché ci permette di andare a fare più di qualche aperitivo, più di qualche pranzo, più di qualche caffè, l'esplorazione è una delle basi insomma. Andare lì impreparati è pericoloso e controproducente per noi stessi. È ovvio che può capitare che uno si trovi per strada, passa davanti a un posto che non ha mai visto e per curiosità entra, ma il nostro lavoro è fatto di domande. quindi sta a noi chiedere al cliente che cosa fa, cioè sì è vero, io mi presento, sì piacere, sono Eleonora e mi occupo della vendita di vino per questa azienda, però non è che gli dico sì guardi ecco qua le ho porto, propongo subito una bella bottiglia di champagne. No, mi interessa sapere di che cosa si occupa, che cosa fate, quali sono i vostri clienti, con che tipologia di vini lavorate e poi si arriva. Un po' di occhiate in giro per vedere ovviamente cosa si vede. Questo è fondamentale, se non si è preparati a monte è fondamentale in ogni caso capire anche quali sono i desideri di chi si ha di fronte, perché è vero che noi siamo dei venditori, ma... Il sogno nel cassetto magari ce l'ha, potrebbe essere e uno può anche aiutarlo perché uno dice sì, beh è quello che vedo qua, però come mai non tiene, può venire questa intuizione, anzi è benvenuta nel caso. Penso che le persone che sanno fare meglio di tutti questo lavoro siano quelle che riescono più a comprendere quali sono i desideri del suo cliente. Il nostro lavoro è sì vendere vino, ma rendere facile anche la vita di chi poi dovrà venderlo. Il nostro cliente è sì il nostro cliente, ma è sempre lui poi quello che si scontrerà con il cliente finale, come lo è nel caso suo, cioè io posso vendere a lui, poi è lui che si dovrà occupare di ripromuovere questa bottiglia, questo vino e trasmettergli le emozioni. C'è una moda, adesso c'è la moda degli sprizzi, perché ormai la gente c'è solo sprizzi, la degustazione c'è tuttora, perché nelle enoteche lo sprizzi, anzi in certe enoteche come la moschetta lo sprizzi non te lo fanno, che io sappia, e quindi va benissimo così ed è giusto. Chi invece vuole raccogliere più clienti possibili, raccoglie quello che è anche il bicchiere di latte va bene, perché giustamente il cliente è la cosa fondamentale, perché vuol dire che nel cassetto poi entra qualcosa. Però quale può essere una proposta che si può fare? Perché uno dice, vabbè, insomma uno mi dice, cosa prendono di aperitivo? Io per esempio sento molta gente che dice, cominciamo con la bollicina. Ma fermo, bollicina, anche rosso direttamente. Anche lì. Come gira così? Allora, per quanto riguarda la proposta al calice nella ristorazione, è un po' diversa rispetto a quella che può essere un'enoteca da aperitivo, un wine bar, eccetera. Se devo pensare magari alla mia esperienza di ristorazione, tutti i vini al calice sono quelli che bene o male vanno poi ad abbinarsi ai piatti. Per quanto riguarda invece penso la proposta di un wine bar o di un'enoteca, ecco che dipende da che tipo di selezione tu fai in questo wine bar o enoteca. Ci sono dei locali in cui si trattano solo dei vini di una certa fascia, per esempio, o dei locali in cui si tratta il mondo magari più dei naturali, no? Perché adesso c'è un filone molto importante di quel tipo di vini e quindi dipende da cosa tu vuoi proporre e di conseguenza vai a scindere tra bollicine, vini bianchi e vini rossi. Per carità, si può iniziare anche con un vino rosso, un aperitivo, dipende dalla voglia che uno ha. È molto soggettivo il discorso. Chiaro che se devo iniziare con un vino rosso magari vado su quelli che hanno una gradazione alcolica meno importante, anche perché poi mi precluderebbe il discorso del secondo o terzo calice, no? Che Claudio, secondo me, si possono fare, no? Eh sì, perché c'è il solito problema di stare attenti che quando ci si alza, se si guida... Esatto, l'importante è andare a piedi. Per caso, e io so che avevi anche degli appunti, magari se ti facevo certi domande, c'è qualcosa che non ti ho chiesto, Eleonora? Perché se per caso hai idea che c'era qualcosa da spiegare che non ti ho chiesto, perché... No, 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 per carità, assolutamente no. In queste cose qua, ovviamente io non sono... No, è che, allora, io mi sono segnata qualcosa che riguarda l'azienda per cui lavoro, quindi la diciamo... Ma parlano un attimo anche di questa idea. Da come nasce, eccetera, perché... Due, tre, due, tre robette. Sì, è un'azienda che nasce negli anni Sessanta, di famiglia, un'azienda di famiglia, veniva conosciuta come mediatore nel mondo di vino e agricoltore. Infatti l'azienda attualmente comunque produce tre linee di vini, anche oltre alla distribuzione. Verso la fine degli anni Sessanta viene costruita la sede, che è quella che dove c'è attualmente, che è la Tre Basileghe, quindi qui nella provincia di Padova, e però la svolta, diciamo, l'ha avuta negli anni Ottanta, in cui il Papa Sergio Balan inizia, diciamo, a fare il cambio sul mercato e diventa distributore. Quindi, prima mediatore. Produttore. Mediatore e produttore. Adesso l'azienda produce e distribuisce, quindi fa tutta quella che è la parte della selezione. Adesso è tra le aziende, si ritrova come posizionamento tra i leader a livello nazionale, perché comunque distribuisce in tutta Italia. Vabbè, io qui ho visto, intanto, due o tre messaggi non firmati, comunque grazie allo stesso, che dice ogni tanto almeno parlare di cose buone, perché è vero, e noi di disgrazia non parliamo mai, però, insomma, si può presentare un libro, il libro è sempre una cosa interessante, però parlare di vino è sempre una cosa in più, perché fa venire voglia e chi è a casa in questo momento magari sta versando, perché noi no qui, perché non possiamo. Sono più difficili ad accontentare i giovani o le persone adulte o addirittura l'anziano, secondo te, perché, a parte il solito saputello che può essere giovane, cambia niente. No, ma il cliente normale, quello che si fida. Anche lì, insomma, dipende sempre, no? Ci sono percentuali probabilmente più alti di persone difficili da accontentare, magari nell'età più alta, quindi magari quelli che hanno già un'esperienza, no? In pregressa di scelta di vini o di competenza sul mondo vino. Quello che noto io è veramente una crescita importante di competenza nei giovani che magari si affacciano al mondo del vino o nelle varie eventi fieristici, insomma, che ci sono nel corso dell'anno in Italia, quando si potevano fare, e magari con i corsi, può essere l'associazione Italiano Sommelier, ce ne sono molte altre, insomma, che formano veramente i ragazzi, ma, insomma, anche le varie fasce d'età. Chi ha passione, ovviamente, è sempre il benvenuto, secondo me, in quelle associazioni. E quindi i giovani hanno più voglia di scoprire le cose, e quindi più curiosità, e quindi tendenzialmente si affidano di più magari a chi gestisce la cartellina. Ma sì, dai, mi faccia assaggiare. Esatto, esatto. Io, non so, mi piace la borgogna. Portami te qualcosa che magari non ho mai assaggiato, oppure consigliami su quell'annata, ecco, sono delle banalità come domani. Più in gioventù, allora, è più in gioventù la curiosità. Secondo me sì, secondo me sì. Poi ci sono anche in altre fasce d'età che magari si affidano al sommelier perché sono più competenti, ma lasciano spazio alla figura professionale. Poi ci sono quelli, e ritorniamo al discorso dei saccenti, che magari hanno proprio una reticenza loro di non voler sentire ragioni, e giustamente poi scelgono quello che vogliono, non ci sono problemi. Simile sarà anche la faccenda con i tuoi clienti, immagino, perché anche lì ognuno avrà l'idea di forse voler plasmare il pubblico. È possibile che ci sia questa voglia qui, perché il pubblico che arriva fa la sua scelta. Però se uno vuole, se vuole, se ne è in grado, potrebbe, un po' perché se ci mette qualche piatto a posto, oppure se sono wine bar, eccetera, se appare delle scelte lui, cioè chi viene da me deve stare qui in mezzo ed avere qualcosa per chi proprio non vuole. Oppure tengono un po' di tutto per coprire ad ampio spettro? Allora, credo che attualmente ci si differenzi molto tra tipologie di locali. Io personalmente preferisco chi crea la sua identità. Avere di tutto perché così è meglio, probabilmente, avere tutto e niente. Non verrai identificato come professionista. Il professionista è quello che si assume anche il rischio delle scelte che fa e di aiutare il suo cliente, di consigliarlo perché la figura del sommelier o comunque, se non è un sommelier, comunque chi lavora all'interno e si occupa della vendita del vino diretta al cliente, che sia al bar piuttosto che al ristorante, piuttosto che, penso che sia anche un'educazione, una formazione e un aiuto, no? Imparare a bere bene, che non vuol dire spendere tanto, per forza. Anche questa, diciamola, è molto importante. Esatto. Bere bene non vuol dire necessariamente spendere tanto. Però, se un'enoteca ha una bella selezione, è giusto credere nei prodotti in cui si crede. Cioè, non è che devo per forza mettere il prosecco perché me lo chiederanno tutti. C'è chi fa delle scelte di controtendenza di non mettere dei prodotti perché non gli piacciono, perché non gli interessano. Vabbè, anche questa è una scelta. Allora, ricordiamoci intanto di bere in maniera responsabile. Questo ricordiamolo, perché fa parte delle cose giuste. Evitiamo gli assembramenti dovuti alla voglia di bere insieme, perché si può bere anche distaccati, perché per fare cin cin basta distendere il braccio e si comincia già a essere quasi a due metri da una persona all'altra. Non occorre fare cin cin qua, così, no? Naso con naso. Ecco, giusto per... E quindi se vogliamo dare un saluto con un messaggio di serenità, secondo me, appunto, intanto bevete responsabili e cercate di capire cosa bevete. No? Perché? Perché è un'esperienza anche questa che può servire non per diventare saccenti, ma per diventare pronti ad imparare ogni volta qualcosa di nuovo. Adesso ditemi voi cosa direste al pubblico, ovviamente è quello più giovane. Beh, io al pubblico più giovane direi che la cosa più bella che possono fare è veramente imparare a bere, perché imparare a bere, e parlo io che penso di vino da bottiglione, poco edificante di aver dato in gioventù, però sono felice di vedere che i ragazzi adesso invece iniziano già bevendo le bottiglie, quindi sei già che anche, non ti berrai questo litro di vino così tanto per, ma inizierai a degustarlo, assaggiarlo, che ti porterà anche a non esagerare. Allora, da bere a degustare, il passo non è breve, ma è fattibile, Niccolò? Assolutamente, devo dire che bisogna anche fare così, insomma, per carità, ci sta magari la serata più entusiasmante perché voglia, no? Di staccare la spina, però di solito è sempre bene ed è una cosa migliore bere il giusto, quindi quel calice o due calici, però di gran qualità, insomma. Ecco, quindi preferire la qualità alla quantità. Sempre, sempre. Uno in meno, ma più uno. Assolutamente, sì. Assolutamente, sì. Ragazzi, io vi devo ringraziare e credo che adesso la gente abbia capito quello che deve fare, intanto stare serena, questo è fondamentale, tutto il weekend. Se avete qualcosa di buono, bevetevelo e però pensateci che in quel momento voi dovete non solo, come si dice, buttare in gola, cominciare a sentire i profumi, sentire i gusti, queste cose qua, per poi distinguerli in altri modelli di vino. E credo che se uno comincia a farlo anche a casa con le piccole bottigliette che ogni tanto si prende, dopo si trova meglio anche al ristorante o meglio quando va nel wine bar. Sicuramente, certo, certo. Grazie ragazzi, grazie a tutti voi, buon weekend, ovviamente anche venerdì prossimo ritorno a casa caffè con qualcosa sempre che dia serenità, altrimenti non gioco. Grazie a tutti, buona serata. Buona serata. Grazie, ritenci. Buona serata. Grazie a tutti.